L'idea è nata a partire da una consapevolezza che in Europa il suolo non è tutelato, non è tutelato dagli stati membri ma soprattutto non è tutelato dalla Commissione Europea, sono tutelati l'acqua, l'aria, c'è una protezione per la biodiversità ma non c'è una protezione per il suolo, eppure l'Unione Europea è nata proprio da un patto tra i paesi membri sul suolo, sull'agricoltura che doveva nutrire i cittadini europei nel dopoguerra, è nata da questo l'Unione Europea. Oggi invece perdiamo ogni giorno enormi quantità di superfici coltivate che vengono erose, che vengono anche sequestrate per sempre dal cemento e dall'asfalto. Basti pensare che negli ultimi 50 anni l'Europa ha perso una superficie di territorio coltivato grande come l'intera Ungheria. Allo stesso tempo noi continuiamo ad attingere a territori da coltivare in altri continenti, foreste primarie nel Sud America, piuttosto che in Africa, piuttosto che piccole coltivazioni nel resto del mondo, per nutrire i cittadini europei che oggi non hanno abbastanza suolo e suolo abbastanza fertile per recuperare tutto il cibo di cui hanno bisogno. Questa campagna ha già coinvolto un gran numero di associazioni, abbiamo ora con noi 350 organizzazioni di 26 stati membri dei 28 dell'Unione Europea. Abbiamo bisogno sicuramente di crescere come numero di adesioni, è molto importante che in queste adesioni c'è una grande trasversalità. Ci sono molti interessi diversi che pur non appartenendo allo stesso mondo tutti ritengono che il suolo sia da saprò guardare, ci sono dentro gli ambientalisti, le organizzazioni cattoliche di sviluppo sociale, ci sono dentro i cacciatori, le organizzazioni agricole, i coltivatori biologici, insomma tanti mondi tutti quanti sensibili al tema del suolo. La sfida però è di quelle molto impegnative, abbiamo un anno di tempo per raccogliere un milione di firme. Abbiamo voluto fare una petizione che fosse più possibile open e inclusiva, quindi vogliamo che aderiscano tutti, non soltanto quelli che sanno l'inglese o quelli che usano internet, si potrà firmare sia ai banchetti sia attraverso internet e la campagna si chiama Salva il suolo. Chiediamo che sia una politica strategica per l'Europa quella di darsi una direttiva sul suolo, di attivare delle politiche per la fertilità del suolo, per impedire che il suolo venga dilapidato e che anzi il suolo svolga di più e meglio la propria funzione, per esempio per quanto riguarda l'accumulo di sostanze organiche, quindi la parte che il suolo può svolgere nella lotta al cambiamento climatico.